Partiti! All'inizio della curva è sempre in vantaggio Mehuat davanti a Monte Oliveto, Stundayu, Brigianiap, Cianjeling, Mammaela e Quiz Evolution. Poco prima dell'ingresso in dirittura Mehuat e Monte Oliveto conducono davanti a Stundayu e Brigianiap, i cavalli entrano in dirittura con Mehuat in vantaggio davanti a Monte Oliveto, Stundayu, Brigianiap, Cianjeling, Perlini Interne, Mammaela e Quiz Evolution. E' in vantaggio Mehuat davanti a Mammaela, Quiz Evolution, Brigianiap, Stundayu, passa Mammaela davanti a Mehuat, Quiz Evolution, Brigianiap e Cianjeling, in vantaggio Mammaela davanti a Cianjeling lungo la corda Mehuat e Quiz Evolution. E' in vantaggio Mehuat, 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 Quiz Wong. Grazie a tutti.